Cari telespettatori, rieccoci insieme, un altro capitolo che noi dedichiamo in termini diversi, con interlocutori diversi, agli anziani e pensionati e non soltanto. Insomma, grande attenzione, una campagna nazionale organizzata dall'ANAP, confartigianato quindi dei pensionati, operatori, persone che hanno lavorato sempre con partita IVA, quindi nell'ambito delle piccole piccole aziende del territorio, nei confronti di tutti coloro che possono essere oggetto di truffe, di raggiri, di imbrogli, di situazioni difficili, insomma sicurezza per gli anziani. Tante volte la persona anziana è più predisposta a dare fiducia, ad essere aperta nei confronti degli altri e molte volte può anche incappare in situazioni poi difficoltose. È bene stare attenti, la prima cosa, e poi qualora si verificassero delle cose non del tutto regolari, informare i familiari in primis e poi le forze dell'ordine, ma ci sono anche le associazioni di categoria come per esempio l'ANAP per quel che riguarda gli anziani che danno una mano, danno un aiuto e noi vediamo di capirlo in che termine, come, come si amplia questa campagna che è incominciata un po' di tempo fa e come si articola con i nostri ospiti. Ben ritornato Presidente Fiorenzo Pastro, Presidente regionale ANAP, Consigliere nazionale. Grazie di essere qui con noi. Ben arrivato anche Raffaele Zordanazzo, Vice Presidente regionale ANAP e Presidente provinciale di Padova, se non sbaglio. Perfetto. E Nicola Carrarini, invece coordinatore regionale ANAP e anche per Vicenza. Grazie anche a lei. Allora, una campagna che va benissimo per il periodo, no? Quel che sta succedendo, cosa dice? Purtroppo, perché quando si è vicino alle vacanze, già abbiamo in Veneto 130.000 circa anziani soli. Lei si immagini nel periodo estivo, quando sappiamo ancora di più, perché magari chi ha qualche vicinanza, qualcosa, qualche vicino, di poter contare o anche i stessi figli o i nipoti, in questa cosa con le vacanze ancora di più. Vorrei tornare appunto al tema, ben preciso, lei ha introdotto per via del clima. Allora, la nostra associazione, l'associazione nazionale pensionati, inserita nella confattigianato, è da parecchi anni che ci lavora su questo tema. Questa è la terza campagna nazionale, però le dico che a livello Veneto, parlo anche a livello Treviso, sono una quindicina d'anni che noi, però magari con minore risonanza, no? Il nostro lavoro era a livello locale, no? Quattro anni fa abbiamo fatto un convegno provinciale dove c'era il presidente nazionale Palazzi che ha preso l'idea e ha detto la portiamo a livello nazionale. Il 3 maggio abbiamo dato il via alla terza campagna nazionale contro le truffe degli anziani. Ma è successo qualcosa? C'è stato un elemento che ha fatto scattare l'esigenza di diffonderla, di ampliarla, di andare più a fondo? Certo che è un elemento, perché i dati sono sempre più preoccupanti. Questo è importante ricordarlo. Questo è importante, sì. Non è che ci sia un venir meno di questi fatti, assolutamente no. Caso mai viene meno la denuncia da parte degli anziani, perché anche recentemente alcuni politici hanno detto, eh ma ci sono meno fatti di violenza. Poi noi in tutte le risposte abbiamo ricevuto da parte di molte persone dei messaggi che dicevano no, ci siamo stancati di denunciare perché c'è poca fiducia in quel che può fare purtroppo l'istituzione. Quindi questo è un dato di fatto, no? Si denuncia meno. Quello che possono fare le istituzioni, noi il 3 maggio abbiamo fatto la conferenza stampa col ministro dell'interno Minniti e c'era anche il presidente, il prefetto Gabrielli, il prefetto nazionale, no? Allora abbiamo fatto una conferenza stampa per dare via a questa campagna, no? E mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto il ministro che ha detto che è fondamentale il rapporto tra i corpi intermedi, cioè tra le nostre associazioni, i sindacati, per collaborare con la polizia. È fondamentale questo perché noi abbiamo la vicinanza, i poliziotti non ce n'è uno per persona, naturalmente, hanno anche i mezzi abbastanza limitati, lo sappiamo un po' tutti il problema. Allora ha detto che è fondamentale, ecco che attraverso di noi, noi possiamo portare il messaggio ai nostri soci, in primis perché abbiamo i nostri soci, ma a noi ci interessa tutta la popolazione anziana, visto che abbiamo il tema degli anziani. Ecco che noi come Veneto quest'anno abbiamo, io l'anno scorso sono stato informato che c'era Moreno, Morello, che faceva, lo chiamano spettacolo, ma io è ridottivo chiamarlo spettacolo, io dico che è una rappresentazione teatrale, denuncia, perché lui fa veramente una rappresentazione teatrale, denunciando tutti i fatti che succedono, giovani, meno giovani, anziani, compagnia bella. L'abbiamo voluto fortemente, ci siamo interessati attraverso la regione Veneto che lo promuoveva. Quindi lei è stato colpito da questa rappresentazione. Sa perché? Perché sono sicuro che le persone note ci fanno la cassa di risonanza, cioè la notorietà fa di modo che la gente viene di più, sta più attenta, legge, sente e poi con queste occasioni appunto che abbiamo avuto fare lo spettacolo, abbiamo mosso tutta una serie di iniziative, siamo stati dai prefetti per poter parlare dei problemi, i prefetti ci hanno ricevuto, delle province dove le abbiamo fatto in questo momento. Ne hanno parlato i giornali, siamo qui per quello adesso, no? Anche lei ci ha invitato appunto per parlare del tema, abbiamo parlato delle nostre tv locali e questo è importante, cioè lanciare il messaggio che arrivi il più possibile a tutti, perché purtroppo quando gli anziani, io li conosco perché ci vivo insieme, perché sono anch'io anziano, la fragilità e la vulnerabilità è sempre dietro la porta, perché poi in caso mai gli spiegheremo qualche fatto che è sempre fin possibile, ma è veramente un tema. Il tema che dice lei che non denunciano, sicuro è anche quello, però, beh non vorrei sbilanciarmi sui dati perché se no andiamo troppo avanti che c'è dopo il nostro, c'è il nostro, poi c'è anche il vicepresidente qua che si deve dire. Ecco perché poi ci sono anche qua per precisare, anziani e anziani, c'è dopo parleremo anche dell'invecchiamento attivo, quindi tantissimi anziani che sono iperattivi, va benissimo, altri invece che avendo raggiunto una veneranda anzianità, perché ormai abbiamo tanti che raggiungono i 90 anni con grande tranquillità o più di 80 eccetera, che invece magari anche per forma mentis sono più fragili, no? Sì, su questo punto vorrei dire qualcosa. Per me essere presidente ANAPA come primo mandato mi dà il senso di dare qualcosa, perché proprio il mio mestiere attuale mi porta a sentire confidenze dagli anziani che veramente mi danno la carica. Gli anziani oggi sono molti, soli, molti giorni soli e ogni giorno hanno richiami delle allodole, hai vinto questo, hai ricevuto quello, tutti quanti richiami per la truffa. E sono oggetto proprio di attenzione. Sono indifesi. Quindi per quanto mi riguarda, io il consiglio che devo dare, le cose gratis non esistono, quindi di fidare di tutte le cose gratis. E neanche troppo vantaggiose. Vantaggiose. O troppo vantaggiose. Poi, ai sconosciuti non si deve aprire la porta. Assolutamente. Si chiama i figli se hanno bisogno di qualche incontro o parlare. Poi ultimamente, diciamo... Non si firma niente. Non si firma niente. Ma ultimamente arrivano proposte da tutti i campi, mail, telefono e così via. L'ultima novità è questa. Hai il cellulare. Carissimo utente, abbiamo inserito il contratto, ti ho chiamato. A sole 5 euro al mese. Se vuoi disdire, devi chiamare il numero e-mail, punto, e così via. Io, è successo a me, ho subito immediatamente disdetto, però le 5 euro erano in conto. Questa è una truffa. Quindi invito tutti quelli che hanno avuto queste cose, di andare all'utente di provenienza e farsi restituire i soldi. Perché questa è una truffa bella e grande. Ecco, ma siccome magari la persona da sola non va, si può rivolgere all'associazione di categoria? Beh, si rivolgono. Noi siamo qua apposta. Certo, quindi questo è molto importante. E comunque è un orgoglio essere, perché vedo che si può fare del sociale, veramente, solo con la comunicazione, con l'appartenenza. Essere appartenere a qualcosa, nel momento di difficoltà, un colpo di telefono, io ho la massima disponibilità ai miei sogni. Chiunque può chiamarmi. Sono anche disposto a riceverli in qualsiasi ora del giorno. Questa è la cosa importante. Quindi, di fidare, di tenersi la vergogna di essere stati truffati o qualcosa del genere. Confidare nelle associazioni. Siamo soci. Quindi dobbiamo confidarsi. Questo è un punto molto importante. Ci sono dei numeri che fanno capire l'importanza di queste iniziative. Dopo faremo anche altri esempi, altri casi, per portare sempre più... Sì, Presidente. Prima dei numeri, sennò poi qualcuno si potrebbe anche arrabbiare. Vorrei informare che questa campagna di sicurezza con Moreno Morello è stata fatta col patrocino della Regione e che è con, diciamo, con l'Audi Consum, che è l'associazione dei consumatori, e con il Ministero, non mi ricordo più, dei fondi dello sviluppo economico. Se ci tengo a dirlo, perché qua c'è stato il patrocino della Regione Veneto, che ha patrocinato questa campagna su tutte le province del Veneto. Lo volevo precisare perché è importante, perché dobbiamo ringraziare la Regione Veneto per questa iniziativa che si è patrocinato completamente. Quindi vi dà un aiuto, insomma, in termini... No, completo proprio. Sommensionato completamente da... Altrimenti non ce l'avreste fatto. Perché la risonanza che ha avuto attraverso, appunto, come dicevo prima, il personaggio ci ha aiutato molto, perché informare vuol dire prevenire, no? Eh beh, certo sì. Più persone arriviamo ad informare, dalle nostre parti si dice uomo avvisato e mezzo salvato. Ecco che potrebbe andare benissimo. Sì, infatti. Prego, scusate. A forza di insistere, a forza di insistere, chissà che qualcosa non si riesca ad ottenere fondamentalmente. Certo. Appunto, tornando al discorso, ci sono dei dati che fanno capire l'importanza, la portata di questi fatti, no? I dati ci sono e le cifre sembrano neutre, ma di fatto raccontano casi, persone, e quindi sono dati significativi. Qualcosa possiamo anche dire, perché abbiamo i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, che giustificano l'importanza di parlarne, di essere sensibilizzati e informati. Nel senso che c'è una diminuzione dei dati di furti, truffe e rapine nei confronti di persone oltre 65 anni. Quindi questa è una buona notizia. È vero, tuttavia, che c'è una percezione di insicurezza molto alta. Di insicurezza. Di insicurezza molto alta. Anche in questi giorni, negli incontri che abbiamo fatto, incontrando con le forze dell'ordine persone anziane, pensionati, non ci credevano a questo fatto. In particolare, la diminuzione è generale in Italia. Si parla dal 2015, confrontato al 2014, del meno 3,5%. Ma nel Veneto, la diminuzione è addirittura del 10% dei casi di furti, truffe e rapine per anziani. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sicuramente c'è stata maggiore denuncia, che le persone stanno più attente e quindi raggiungiamo in questo modo l'obiettivo principale della nostra campagna. Ciò nonostante, riteniamo importante parlarne ancora, incontrare i pensionati, passare la parola, dire, come dicevano anche i Presidenti prima, che far parte di una realtà e quindi partecipare alle azioni della comunità, delle associazioni, ci consente di non stare soli. E il vero nemico che dobbiamo combattere è l'isolamento. Perché rimanere soli o isolati ci rende tutti più vulnerabili. E quindi se siamo più vulnerabili, più facilmente bersaglio dei malintenzionati. E la campagna, siccome la campagna dell'ANAP si chiama Più Sicuri Insieme, fa leva proprio su questo fatto, costruire una rete di collaborazione per fare in modo che le persone siano più tutelate, più sicure, ma anche più attive. Ecco, vediamo, ci sono due punti importanti. Più attive, come si può realizzare questa maggiore attività, quindi uscire da questo guscio, da questa sorta anche di apatia che a volte avvolge un po' la vita della persona dal momento in cui va in pensione. Quindi soprattutto agli uomini poi si riscontra, perché magari le donne seguono anche i nipoti, hanno altre attività, impegni e tutto. E poi come si può creare questa rete, che è un altro aspetto importantissimo, quindi di condivisione, di comunicazione, eccetera. Pubblicità, pochi secondi, poi torniamo insieme. Grazie. Grazie.